al beppo il beppo me la pagherai l'ultimo cubo di haid 10.000 questo è il cubo numero 10.000 manca una rotazione grazie raga davvero grazie siamo riusciti a raccogliere più di 16.000 euro in beneficenza raga vi auguro la buonanotte ora chiudiamo con un ride a sturniolo salutate mario sturniolo anche da parte mia ciao raga meanwhile saluto ma a solda a chi a solda a nanzo a rete a nanzo a rete a nanzo a rete a manzanaggio pura sei lì qua basione che raro che raro soldato extraterrestre che non ti ne vai mai via sei il mio Shinagami mi segui tutto il tempo e mi fai mh sono il pokemon vero ancora sincero perciò sarà fiero di averti così grazie due secondi dopo tuta puta 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 amo i cazzo di orangotango animale che invece non sopporti il ragno ho paura del ragno perché che fa? fa bordello è violento e ci assomiglia più di tutti io non assomiglio ad un ragno no? hai confuso le cose grazie per il primo commento Kaub Giuseppe da Bassoli grazie a Hide Magician per il ride del...